Ciao a tutti, benvenuti a Stelle Fuoricampo, oggi siamo qui con Luca Gerri, campione europeo di tiro a volo che si allena a trap con caverde di Donato. Ciao Luca, quando hai iniziato la tua carriera? Ho iniziato la mia carriera all'età di 10 anni, prendendola come hobby. All'età di 15 anni è diventato quasi un'ossessione, facendola diventare agonismo. All'età di 17 anni sono entrato in nazionale ufficialmente, ho partecipato a due gare internazionali importanti, sono state nel campionato europeo dove ho fatto il terzo posto individuale e il primo posto a squadre, la Coppa del Mondo, che è andata un po' così così, però va bene, recupereremo il mondiale a settembre. Quali sono le difficoltà che hai affrontato? Un po' la pressione, soprattutto all'europeo, che è stata la prima gara internazionale importante. Me la sono trovata molto bene, riuscendo a trasformare l'emozione, l'agitazione in adrenalina. Sono molto contento appunto di aver risposto il risultato più alto generale della gara. Quali le caratteristiche che deve avere una persona che vuole fare questo sport? Una vita regolata, andare a dormire presto, mangiare bene e allenarsi soprattutto fisicamente. Avere una mente aperta a tutto, ascoltare varie persone per consigli oppure per esperienza. Tre parole per descrivere la tua passione. Amore, piacere e dedizione. Chi è stata la tua maggiore ispirazione? La mia maggiore ispirazione è stato il mio allenatore attuale, Giovanni Pellielo, e lo ringrazio molto. È un'ottima persona. Grazie. A te. Ciao.